C'ho un vestito a righe fatto su misura per sto fusto e già un letto da una piazza, l'enzola di bugato fatta apposta per me. Dentro il caffè e il latte una manciata di biscotti di giornata, mezzo a un bel cortile con l'amici fanno poi una passeggiata. Mezzo giorno in punto c'è il razionamento pure all'ora, di mani. Solita partita dopo la pappata serotina, poi se farà tutto regolare ma c'è stata cosa che mi disturba un po' e al direttore lo dirò, leva me sto numero perché sa già trent'anni che ce l'ho. Dentro il caffè e il latte una manciata di biscotti di giornata, mezzo a un bel cortile con l'amici fanno poi una passeggiata. mezzanotte in punto c'è il razionamento pure all'ora, di dormire. Solito controllo, bebede se siamo tutti quanti ancora qui. tutto regolare ma c'è stata cosa che mi disturba un po' e al direttore lo dirò, leva me sto numero perché sa già trent'anni che ce l'ho. A presto. 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 A presto.